Ti piacerebbe acquistare il nuovo BTP valore che verrà emesso settimana prossima, ma ancora non hai trovato un video che ti dice quanto rende. Il motivo era facile, tutti i video fatti finora non avevano i dati delle cedole. Finalmente il Ministero ha pubblicato i dati delle cedole, andiamo subito a vederli, eccoli qui, 3,25% primo e secondo anno, 4% terzo e quarto anno, a cui bisogna ricordare va sommato il bonus, diciamolo, fedeltà per chi lo acquista in emissione e lo tiene per tutti e quattro gli anni. Questo quindi è proprio identico dal punto di vista finanziario al classico, vecchio, caro BTP a tasso fisso. Non ha niente di diverso, se non il fatto che la cedola non è fissa, ma aumenta tra il secondo e il terzo anno. Questo è uno scaltro meccanismo di marketing utilizzato da molti emittenti di obbligazioni per mascherare uno svantaggio spacciandolo per un vantaggio, perché l'investitore dice ah che bello, la cedola mi aumenta. No, non è così, dovresti dire ah che brutto, prendo la cedola alta soltanto dopo e quindi non posso reinvestire i soldi delle cedole subito all'inizio. Ma andiamo a vedere sul foglio Excel quanto rende esattamente. Eccolo qui, già pronto. Io ho considerato che dovete spendere i soldi il 5 del 6 2023. In realtà l'obbligazione di fatto parte il 13 del 6, ma voi i soldi dovete averli subito disponibili perché andrà acquistata in borsa come i BTP Italia. Qui ho ipotizzato 7000, questa cella è perfettamente scambiabile. Non stressatemi dicendo eh ma se uno non ha 7000, l'otto minimo è 1000, potete prendervi i fogli Excel, fate questo sforzino e cambiate un numero. In questo foglio Excel c'è da cambiare un numero solo, potreste degnarvi di farlo. Ok, quindi 7000, qui è il flusso lordo, prendete 1,63 di cedola ogni semestre per i primi due anni, eccola qui. Dopodiché prendete il 2% di cedola ogni semestre per gli anni successivi, riprendete i 7000. Per chi me lo chiede, e me l'avete chiesto in 500.000, la cedola è sempre calcolata su 100, quindi se prendete il 2%, prendete 2, non importa il prezzo di mercato. Ok, e dopo se lo avete comprato in emissione e l'avete tenuto fino a scadenza, prendete il piccolo premio finale, che anche qui ho avuto da ridire con una persona, è totalmente irrilevante e ve lo dimostrerò tra poco. Quindi questi sono i flussi di cassa lordi, questi sono i flussi di cassa netti, che danno per scontato che qui si paghi il 12,5% di tasse su ogni cedola. Non si paga nessuna tassa sul rimborso, chiaramente perché l'avete acquistato a 100 e lo rivendete a 100, si paga però la tassa anche sul premietto finale. E qui mi sono permesso questa volta di calcolare anche il flusso nettissimo, che comprende anche il fatto che voi dobbiate sganciare il 2x1000 di bollo sul conto titoli. Lo dovete sganciare soltanto a dicembre, suppongo che voi abbiate un estratto conto titoli annuale, se l'avete semestrale è l'1x1000 qui e l'1x1000 qui. Ecco qui, quindi vedete che le due le cedole di dicembre sono un po' più basse perché dovete sganciare il 2x1000. Ecco qui, rendimento lordo 3,74, netto, quello che viene considerato netto da tutti 3,27, se vogliamo considerare anche l'imposta di bollo 3,07. Andiamo a vedere cosa succede se non prendete il premio, ad esempio se lo acquistate tipo il 10 giugno, quindi qui 0, come vedete perdete lo 0,1%, quindi vedete adesso il netto è 3,17, torno al valore precedente 3,27. Ci avete perso uno 0,1% all'anno, all'anno. Un'obbligazione che dura 4 anni, 0,50, dato solo alla fine, sì, è circa 0,1% all'anno. Ok, questo rendimento è bello? È buono? È scarso? Andiamo a confrontarlo con i BTP a tasso fisso. Gli ho guardati questa mattina, prima che uscisse il comunicato del Ministero, e il BTP a tasso fisso, con scadenza anche lui giugno 2027, rendeva il 3,44 lordo e il 3,14 netto. Direi, considerando anche che non ci pagate la commissione, che in questo momento è meglio di un BTP a tasso fisso. Ho peraltro appena controllato il sito di Borsa Italiana, il prezzo di quel BTP a tasso fisso che scade a giugno 2027 è sempre inchiodato lì, quindi non è cambiato, gli altri BTP non si sono allineati a seguito delle emissioni di questo BTP valore. Vi ricordo che è acquistabile in Borsa solo se il vostro intermediario ha accesso a Borsa Italiana nuove emissioni, perché ho scoperto ad esempio che uno dei miei intermediari, Generali Saxo, non mi dà accesso a Borsa Italiana nuove emissioni di obbligazioni. Quindi è acquistabile normalmente in Borsa, come qualunque titolo, lo troverete a prezzo inchiodato a 100, già da lunedì, e lunedì e martedì potete acquistarlo sicuramente, dopo rischiate un po' la chiusura anticipata, verranno soddisfatte tutte le richieste arrivate, quindi non ci saranno alcune richieste in evase o alcuna assegnazione per estrazione. È un buon investimento? Beh, onestamente, se dovete investire per 4 anni, e dovete investire per 4 anni solo nel caso in cui i soldi vi servono tra 4 anni o i soldi vi servono tra 4 anni, non vedo un altro motivo per investire a 4 anni, è l'unico motivo serio per investire a 4 anni, i soldi vi servono a 4 anni, oppure non volete per nessun motivo comprare azioni e volete un po' sparpagliare i vostri acquisti di obbligazioni. Soprattutto evitate di avere titoli di Stato italiani a oltranza, quindi quando sento gente che mi scrive ho 100.000 euro investiti solo in BTP, insomma, magari bisogna andarci un po' con prudenza. Quindi se iniziate a superare certe cifre di BTP, ad esempio siete pieni, ingolfati di BTP Italia, forse non è un buon investimento, forse il caso è di andare verso obbligazioni di altri emittenti. Il sito di Bolsa Italiana trovate milioni di emittenti governative europee, abbastanza stabili, mi raccomando, non obbligazioni in altre valute su cui avete forti rischi di cambio, oppure obbligazioni di aziende che siano abbastanza solide e che non abbiano l'opzione call o altre opzioni tipo sub-tier e altre opzioni che non capite, tutte le opzioni che non si capiscono, evitarle come la peste. Altrimenti, quindi, se non siete imbottiti di titoli di Stato e se volete parcheggiare soldi per 4 anni, ottenendo un buon netto 3,27, nettissimo 3%, nettissimo vuol dire che proprio quelli vi entrano puliti, puliti, puliti. Cioè su 10.000 euro investiti ve ne entrano 307 puliti, puliti, puliti. Ecco qui, questo è tutto per il BTP valore, come vi avevo già anticipato non era la scoperta di chissà che cosa, è la scoperta abbastanza dell'acqua calda perché è del tutto equivalente a quelli a tasso fisso, anzi non hanno fatto il meccanismo di step up neanche un po' dinamico diciamo, l'hanno inchiodato su due tassi, è praticamente un doppio tasso fisso. Ciao a tutti, arrivederci, alla prossima emissione! Ciao a tutti!